I fatti di Bruxelles vanno incontro a tutto quello che noi stiamo dicendo da tempo. Da un lato un'Europa con le proprie radici giudaico-cristiane, dall'altro lato un Islam che tenta di imporre con la forza le proprie ragioni. Noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, con questo Islam non c'è niente da fare, non si può parlare e non si può dialogare. Noi abbiamo chiesto immediatamente al governo Renzi di la chiusura delle frontiere, quelle frontiere da dove passa di tutto, le frontiere Colabrodo, le nostre frontiere che fanno ridere tutta Europa e anche di più, e anche il mondo. Abbiamo chiesto immediatamente dei controlli, abbiamo chiesto la chiusura di quei centri islamici ambigui, abbiamo chiesto la chiusura di quelle moschee dove non si predica il Corano, ma si predica l'odio nei confronti di una comunità, quella italiana, che li sta accogliendo. Abbiamo chiesto di più che il Corano nelle moschee venga recitato e venga insegnato nella nostra lingua, in italiano, perché riteniamo assurdo che persone che sono in Italia e sono nella nostra terra non sappiano neanche la nostra lingua. E di conseguenza questo governo di incapace, di inetti e di molli, con le gambe molli e con il cuore chissà dove, chiediamo ancora una volta di essere finalmente a tutela dei cittadini italiani, di essere duro e sicuramente di dimostrare, almeno in Europa, che il governo italiano e che l'Italia sa farsi valere almeno a casa propria.